Ciao, siamo qui in questo luogo veramente magico dove sto tenendo questo corso di canalizzazione vibrazionale angelica. Sono accadute grandi cose oggi e grandi cose accadranno ancora. C'è chi ha lasciato andare dei blocchi, c'è chi si sta permettendo di fare il suo cammino e c'è chi invece sta scoprendo una parte di sé che era completamente nascosta e siamo solo a metà della prima giornata. Seguici, ne vedremo delle belle. Ciao!